one podcast morio moroni e i fake su instagram che continuano buongiorno e bentornati al caffettino podcast sono mario moroni e qui oggi davanti alla macchina del caffè virtuale come faccio ogni giorno 365 puntate l'anno da più di 1300 puntate prendiamo il mondo dell'innovazione lo commentiamo cerchiamo di tirarci fuori qualcosa di utile per noi professionisti imprenditori e perché no studenti oggi parliamo di una cosa che mi è successa personalmente nelle ultime settimane e che mi ha fatto rivalutare un problema veramente gigantesco dei social media in particolare di instagram nelle ultime settimane ho visto un aumento di account cloni su instagram prendono l'account di un utente in trend o particolarmente attivo e lo clonano pari pari copia e incolla in un nuovo account chiaramente fake con tutti i contenuti cominciano poi a seguire i propri follower a chiedere il follow on follow ovvero il collegamento e poi li tolgono e poi li aggiungono ma in particolar modo cominciano a inviare messaggi a tutti i follower dell'account che hanno clonato proponendo che cosa con messaggi privati non ciao come stai e punto ma proponendo acquisti investimenti in cripto insomma e tutta la sporcizia dell'internet è capitato anche a me qualche giorno fa sì mario no morio mi verrebbe da dire perché l'account mio di instagram si chiama chiaramente mario moroni ma l'hanno clonato con il nome morio moroni e è bastato cambiare una vocale chiaramente questi malintenzionati hanno cominciato a disturbare i miei follower tra cui tanti ascoltatori del caffettino podcast non sono chiara ferragni però comunque rompe le scatole perché perché in realtà lancio tante comunicazioni riguardo al podcast le mie iniziative e anche chiaramente è un account costruito in tanti anni di relazione di cui vado anche particolarmente fiero questa pratica abbastanza comune però mi ha fatto imparare tre cose importanti che voglio condividere con te perché se non possono esserti utili numero uno ho un seguito è una community che mi tutela decine decine di persone dal giorno uno mi hanno scritto per avvertirmi che chiaramente c'era qualcosa di strano no e sono attivati per segnalare a instagram l'accaduto ovvero segnala account segnala account numero due non è facile riconoscere i fake non tutti guardano il nome no ma osservano magari l'immagine del profilo e quindi non è facile riconoscere un fake che ci sembra molto 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 coerente numero tre a instagram non gliene frega niente instagram non interviene bisogna andare in altre modalità in secondi piani con altre segnalazioni perché oltre a segnalazioni degli utenti serve ben altro mi vorrei soffermare su questo ultimo punto perché instagram non interviene perché meta non si muove per me è un danno per gli utenti è un danno per le truffe che sta generando questo fake se qualcuno ci ha cliccato è un danno è perché emetta instagram se ne fregano accade anche su facebook e le altre piattaforme non lo so è un danno anche per loro perché io potrei anche stancarmi di instagram pubblicare da altre parti togliermi potrei spostare tutta la community potrei passare meno tempo semplicemente sulla piattaforma per così dire lasciandolo in secondo piano ma è possibile che siamo al termine dell'era dei social e siamo all'inizio di un'era molto mischiata anche con l'intelligenza artificiale e queste piattaforme non riescono a riconoscere un messaggio copia e incolla non ci credo non voglio crederci ora mi sta cominciando un po a venire in mente che vogliano vendere il prossimo meta verifier del sistema pagamento attualmente in sperimentazione per gli account verificati non ci voglio pensare però bisogna muoversi perché chiaramente non tutti sanno riconoscere queste situazioni non tutti sono tecnologici come noi quindi fate attenzione chiaramente se seguite il caffettino podcast sapete che non vi scriverei mai un messaggio per proporvi investimenti in cripto scorciatoie varie insomma sapete che qui insomma la pensiamo in una certa maniera forza e coraggio impariamo anche da questo voi lo sapete noi lo sappiamo e anche domani il caffettino podcast è qui e qui c'è mario moroni non morio mario moroni buona giornata